...essere stati allevati dallo stesso allevatore. Il nostro giudice, nel rispetto dello standard di razza, andrà a scegliere quei gruppi di allevamento che permettono di riconoscere un tratto distintivo che accomuna tutti i soggetti presentati nello stesso gruppo di allevamento. Siamo quindi pronti per conoscere il giudice dei gruppi di allevamento, Amedeo Bottero, che ringraziamo per essere qui con noi. Ed ecco quindi il gruppo di Alani Neri. Il gruppo di Terrier Nero Russo. Il gruppo di Bozerong. Il gruppo di Alaskan Malamute. Il gruppo di Cane da Pastore Scozzesi a Pelo Lungo. Il gruppo di Cane Corso. Il gruppo di Cane da Pastore Bergamasco. Il gruppo di Cane da Pastore Scozzesi a Pelo Lungo. Il gruppo di Schnauzzer Nano Bianco. Vai col Jingle Bell. Il gruppo di Kinshaw Spaniel. Il gruppo di Bassotti Standard a Pelo Corto. Il gruppo di Chin Spaniel Giapponese. Ed è tutto per i gruppi di allevamento. Alano Nero, Terrier Nero Russo. Cane da Pastore della Bossa. Alaskan Malamute. Il gruppo di Cane da Pastore Scozzesi a Pelo Lungo. Cane Corso Italiano. Cane da Pastore Bergamasco presentato One Hand. Cane da Pastore Scozzesi a Pelo Lungo. Cane da Pastore Scozzesi a Pelo Lungo. Schnauzzer Nano Bianco. King Charles Spaniel. Passotto Standard a Pelo Corto. E Spaniel Giapponese. E Spaniel Giapponese. Pertissimi per chiamare sul podio i vincitori. Saliamo sul podio per la premiazione. Sì. Così li chiamiamo direttamente. Terzo posto per il Cane da Pastore Bergamasco. Il giudice sottolineava l'omogeneità dei raggruppamenti presentati e faceva i complimenti per i cani qui presenti. Secondo posto per il gruppo di Alani Neri. Giro d'onore. Qualcuno stamattina diceva NC Winner, NC Winter. Quindi parliamo di neve e c'è un gruppo di soggetti che deriva da una razza, da una popolazione allevata nel Grande Nord. Parliamo degli... Già, l'ho fatto per scaldare il motore. Alaska Malamut sul gradino più alto del podio. Parceli stare tutti sul podio. La vedo complessa. Complimenti ai nostri splendidi gruppi di allevamento. Complimenti ai nostri... Cane da Pastore Bergamasco, Alano Nero e Alaska Malamut. Un attimo che li facciamo mettere davanti. Mettetevi qua davanti che ci state, così si vedono tutti, tanto il giudice siete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.